Tutti falle star, ci sono solo star, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, in Italia troppe star. Tutti falle star, ci sono solo star, leone qui con la sua umiltà, a lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà. A lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà. Sul red carpet di una poltrona per due, leone di Lernia. Oltre 40 milioni i dischi venduti, interpretazioni uniche ed il fascino indiscreto che rende inimitabili gli uomini del sud. Attore, cantante, poeta, DJ, conduttore radiofonico e televisivo è un concentrato di simpatia e talento. Averlo con noi è una vera emozione, si segga in poltrona il pro di Leone. Ciao amore, ben arrivato, prego, spomodoti. Madonna, volevo essere io come te, madonna mia. Grazie. Fammi diventare come te, bella. Leone, tu sei un mito, ma lo sai che sei un mito. Lo so che sei un mito, non so. In guerra, in guerra non ci voglio più le arme, basta io con il mito, con la metragliatrice, un cannone, i pistoli, i pistoleri. Tu devi sapere una cosa, a parte il fatto che noi tutti ti ascoltiamo tutti i giorni su Radio 105. 105. Quindi perché sei un fenomeno. Con Ilenia è brigante. È brigante, esatto. E poi i nostri boys qui presenti hanno tutta la tua discografia completa scaricata sull'Ura iPod. Malati. Sono malato. Siete scemi voi. Ma no, e pensa che ognuno di loro viene da una regione diversa, hanno fatto preparare dalle loro mamme dei piatti tipici. Pensa che Martini che viene dalla Puglia ha portato i polpi arricciati, le ganchierelle con le cime di rapa, insomma, miliardi di cose, di tutto di più. Ha portato la cozza, cocozza. Sì, perché volevano corrompere gli autori pur di averti qui con noi in studio. La cozza, cozza, patate, merluzze, pasta e fasùle, frattate di cipolle, cozza, 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 cretini. No, io non ce la faccio ad andare avanti, lo dico subito perché tu mi fai morire dalle risate. No, ma che ti fa morire, poi ti vengono a pararsi, vedrai. Adesso, no, però mi devi aiutare con l'intervista perché io... Ti aiuto. Allora, innanzitutto vorrei partire dal tuo successo. Sì. Meritato successo che dopo una lunga gavetta durata vent'anni perché... No, 45. Sì, però il tuo successo è arrivato dopo vent'anni. Ti volevo chiedere una cosa, tu che hai fatto tante gavetta e comunque sai che cosa vuol dire, cosa ne pensi di questi giovani cantanti che dopo una o massimo due apparizioni in televisione hanno tutta questa fama così facile, ecco. Non devono più cantare. Non devono più cantare. Non devono più cantare. Io non sto scherzando, dico la verità, questi cantanti non devono più cantare perché ormai non è più come prima, adesso è un casino. E io spero poi che non spendano i soldi perché l'euro non li dovete spendere per fare il disco. Non guadagnerete mai 500 euro, anche se vi mettete con tutta la buona volontà. Non dovete cantare. Fate altre cose, quelle che faranno loro e quattro fra tre mesi. Loro apriranno una casa di toleranza e guadagneranno un sacco di soldi. Ah sì, una casa di toleranza. Prendete il senso, scrivete. Senti, ma io vorrei sentire Salvatore che vedo che scalpita. No, a dire il vero, tu sai che sono l'esperto di immagine, però mi occupo anche di colori, di tavolozze, di rivestimenti murali, accessori per la casa, zerbini, moccati, tappeti e tappezzerie. E poi passo il tempo libero realizzando riparazioni, scintiletto, espressivamente per le mie amiche. Oh, una cosa meravigliosa, stupenda, sei un fenomeno, sei un fenomeno. Tu hai la capacità veramente di sorprendermi sempre, Salvatore. Ma che cosa volevi dire al leone? Ma io innanzitutto sono felice di fare la sua conoscenza, signor Leone di Lernia. Però adesso davanti. E poi prima il red carpet l'ha letteralmente travolto con falcate degne della celeberiva bambina spadacina. E' vero. Vi racconto una leggenda vuole che all'arrivo del mulsone di primavera, la giovane bambina spadacina inciampasse in una buca fraccellantosi il viso e richiamando l'attenzione di branchi, di orsi e di iene che fece brantelli il corpo della giovane bambina spadacina. E come lei può immaginare, rimase solo la spada a ricordarne il passaggio terreno. E per questo oso indovinare che il signor Leone di Lernia a vederlo di certo consuma cozze di fiume, anche patate e sicuramente dosi massicci di finocchiona rossa che come tutti sappiamo favorisce la diuresi notturna. Come hai fatto a indovinare queste cose qua perché io sono appassionato di tutte le cose che hai detto. Fisci a mezzo del finocchione. Ma noi ci siamo documentati. Sì, anche durante la notte. E poi mi consenta, lei è un bell'uomo maturo ma macio, non micio. No, sono di giugno, non sono di macio ma sono di giugno. Io vado meglio a giugno, come infatti vedete il calore che c'è adesso è fenomenale. Però sicuramente è un bel macio che dimostra di come frequenti piscine e palestre dando tono e vigore alla figura di insieme. E poi mi consenta l'ultima cosa, se la savana offre poche prede è normale che i leoni le azzanni ed è lì che l'aspetto di nascosto dietro un albero e dei cespugli come una gazzella. E ce ne fossero di leoni come di lernia. I miei complimenti leone. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa ha detto? Io non azzanno nessun animale. Le animale che azzanno io sono questi ragazzi qua. Tu li vorresti azzennare anche tu questi ragazzi? Già fatto. Già fatto? Hai avuto più di me? Comunque ti ringrazio, sei molto gentile. Ti apprezzerò per tutta la vita. Stanotte io per te mi scornicchio, mi squacquacquacchierò. A pensare. È meraviglioso. Senti Leone, io sono sicura che tu non hai nessun remore e sarai sincero a rispondermi comunque. Come no? Io so che tu hai partecipato all'Isola dei Famosi. Auz! Raccontami, perché non mi racconti qualche gusto santo? Beh, l'Isola dei Famosi per me è stata una bella cosa. Sono state 24-25 giorni ma sei bellissima perché ho messo 44 ore per arrivare sull'isola però andando lì mi sono divertito tantissimo perché non ho mangiato per 24 giorni perché ero tanto arroco sei gruoso e sono di maglietta 13 kg. Effettivamente è vero che non si mangia niente, che non si beva niente perché io volevo bere un bicchiere di acqua ma quella acqua schifosa che non si capisciava niente com'era. Era un'acqua brutta, no? Come infatti poi mi hanno prontato all'ospedale, mi hanno detto Leone. Allora io se mi ero, e se mi ero Leone, leone di Leone sei disidratato? Di capo del cacchio, venti giorni che non bevo. E ti dico che sono stato bene, con tutti gli altri siamo stati bene, però quando vai lì ti lamenti che non voglio fare, mi voglio andare a casa, poi rimpiangi tutto perché è bello, guarda vi dico la verità, è bellissimo. Lì devono andare tutti quelli obesi e quelli devono fare un iso per gli obesi. E' una pura dimagrante. Ecco, lì si dimagrisce tantissimo. Leone, tu insieme a Lino Banfi, ecco, voi avete portato l'orgoglio pugliese nel mondo. Sì, ma Lino Banfi è andato bene. E' vero. Quindi in America pensa che c'è una radio locale, il signor Casalini che manda sempre le sue canzoni, soprattutto quelle sue preferite che sono quelle in dialetto. Ecco. Dialetto ne ho fatto tantissimo, ho fatto quasi 10 LP, però sono 46-45 LP che ho fatto, non mi ricordo bene, però capito? E' vero, è vero. Ecco, ma che cosa vuol dire essere pugliese? Pugliese ha un'origine bellissima, la Puglia è ormai in bocca a tutto il mondo, soltanto a Barletta, diciamo Barletta, Bicelli, Corate, è conosciuta ad Andrea, Molfetto, Cerignolo e Canosa è conosciuta benissimo a Bicelli, Altamur, Sturnare, Sturnare è conosciuta a Bari, in tutto il mondo, soltanto quella zona lì. Allo stato attuale e fuori da ogni regionalizzazione che regne il discorso sterile e puerile, il criterio metodologico imperante in certi sistemi discografici, plutocratici, nazionali, prefigure il rivoluzionamento della dialettica preesistente di sopra l'interesse di pressioni corporativa in cavegeliana, di cui il signor Messier Leoni di Vernia è, in parole semplici, l'erroire! è un po' inquietante la nostra sociologa, tutte le volte io dico che devo chiamare l'esorcista, però è bravissima, brava, 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 non mangiare l'esorcista! Senti Leoni, noi abbiamo fatto un soldaggio su di te, quindi ora vorrei dare la parola al nostro Renato Ansaldi, vediamo cosa ci racconta! Abbiamo chiesto ad un campione di mille persone per quali lavori artistici, televisivi, cinematografici, musicali? Ricordate Leoni di Vernia, il 2% si rifiuta di rispondere perché pensava fosse il 10% per il singolo La La Li, La La La, pesce fritto e baccalà, del 1990, il 13% per il singolo Salutami Assort, il 20% per il video Bevi Stuchinotto, giunto su YouTube ad oltre 2 milioni di contatti, ebbene il 55% per lo zoo di Radio 105, calca per chiunque, calca per chiunque! Leoni, senti, noi abbiamo reso noto su internet che tu saresti stato nostro ospite, quindi sono arrivate tantissime email, però questa volta io ci terrei a leggere un email che viene direttamente dalla mamma di Martin, Martina Frank, esattamente, perché la mamma ci teneva a leggere questo messaggio, naturalmente l'ho presa io la lettera perché non si fida assolutamente del figlio, sentiamo cosa dice la mamma, anzi Martin ti prego, Martin ti prego leggila tutta, rigo per rigo, altrimenti ti dico il licenzo subito, quindi io ci tengo, tua mamma è una bravissima persona, quindi questa è la lettera, mi raccomando, allora caro Leoni, quando ti sto a leggere la lettera, i figli, allora tu sei il numero 1 per tutti i guagni d'Italia, specialmente più numeri per gli uomini, se ti mandi a Milano, dato che è la stessa regione, devo fare un favore, aiuto, gli do una bella guagni d'Italia, ma io non pico tu, se ti porti insieme sicuramente vado a salvare un picco, ho capito, per favore, vuoi fare capace, ma ti ando pensando qualche donna, dimmi, dimmi, chi ti ha morto, dimmi, dimmi, e tu per me su Mass, grazie, come si chiama tua madre? Enza, signora Enza, con immensa gioia questa lettera la ricevo proprio dentro il cuore, non ho parole per scrivere per cui sbacca la edificati io, perché ha letto una lettera a livello latino, proprio latino, che la gente, a parte di scherzo, tutta Italia l'ha capito benissimo, però se questo figlio qua vuole germogliare, cara signora Enza, se vuole germogliare questo qua, non deve battere sul lavoro dove si prende 1.200 euro al mese che si fa la fama, lui si deve adeguare ad andare avanti, a tenere contento tutta quella povera gente che è in crisi, depressa e esaurita. Leone, siamo d'accordo con te, però ora mandiamo Martina al suo posto perché già dopo questa figuraccia, non sa neanche leggere, purtroppo sì, ma si è capito tutto. Ah, meno male. Ehi, figlio, la madre è più in gambe di voi. Sicuramente. Leone, adesso vorrei analizzare il tuo percorso artistico. Ah, ci sto dicendo. E quindi per questo sarò aiutata dalla nostra Shelley Taylor. Shelley. Sì, certo, ma Leone di Lernia domina da quasi otto lustri il sistema discografico italiano, portando alto il vessino dello sperleffo applicato all'arte del canto popolare. Da artista camaleontico, quale usa spesso il metalinguaggio, ammantandolo con orpelli dialettali che sono finalizzati sistematicamente a ricoprire le asperità. Lunghi sono stati i successi ottenuti scalando le classifiche dei dischi più venduti. E per citarne qualcuno, rararì, rararà, pesce fritto e baccalà, oppure ti sei mangiato, rararà, pesce fritto e baccalà, oppure ti sei mangiato, rararà, pesce fritto e baccalà. Della non puntuale corrispondenza di un certo silocismo presocratico, nella misura in cui i palazziti del Dio non si crociano come mere vittime sacrificali di discrepanze sociali cosmiche. Che chiede lì che Claudio Baglioni, mentre canta sempre la stessa soffa, fuori l'anno zero che adotta solo figli maggiori. Ma non ti deve ingazzare, ti viene un impatto. Se posso non ti fare, ti farei grata. Devo dire che indimenticabili sono le performance poi a radio 105, 105 non stop, dove performance comiche, dove veramente diventa un'icona per il mondo gay, trans, bears, NFC7. L'unico piccolo appunto che vorrei fare al signor Di Lernia, se mai, è questa impercettibile mancanza di capitalizzare il suo talento. Con un menaggio mente americano, oggi lei sarebbe di sicuro un vivo sociale di fama mondiale, al pari di Freddie Mercury. Il menaggio ce l'ho, il menaggio ce l'ho. Sicuramente. Infatti il destino era scritto nelle stelle, anagrammando il nome Leonardo Di Lernia, ne esce testualmente la frase addolorai le renne. Quasi a preseggere quanto il non essere più nei luoghi come Trani, città di nascita, abbia non solo influenzato i conterranei, ma anche la fauna locale. Naturalmente non parliamo delle renne, ma dei leoni, i veri leoni. Ed è infatti verità il termine che più mi viene in mente pensando allo straordinario e adesso verso di un millennia. Quante parole. Leone, leone, ve li stai sentì perché io oggi ho fatto un 48, ve state qui a parlare. Non un 68. Guarda, io ho 25 anni e non so una che se leva le tamme, te vi crede, perché io sono sempre stata sincera. Ho capito. Te per me sei come un zio. Un zio che ho perso quando avevo tre anni, ma che da quando ho otto anni compro tutti i suoi dischi. E ti sei ormai. Te per me sei nizio, perché ogni volta che esce la tua canzone, per me è come un compleanno. E ti dirò di più. Eh. Che tutti i testi delle tue bellissime canzoni. Letterà. Io sono convinta che sono tutte dedicate a me e che non me lo voglio tu moglie. Ma non sarai mica tu a fare il rirocco di papo, perché ogni sera mi mando 3.000, 4.000 sms. Ma tu mi emozioni così tanto che quando è uscito la ralì, la ralà, a pesce fritto e baccalà, pure che sono allergica all'olio d'oliva, me ne so, impara la frigge qualsiasi cosa. Anche i pesci, un pesce un po' male. Io voglio bene a te e a tutta la famiglia tua. E mo' che ci avete una riposta. Sapete che ci avete una riposta? Regolatevi le conseguenze. Bravo! Leone, grazie di questo. Siamo arrivati alla fine di questo piacevolissimo incontro. Grazie veramente. C'è stato ironico, divertentissimo, come sempre. Ragazzi, che voto vogliamo dare a Leone di Lernia? Uno. No, dieci. Ma che dieci? E beh, anch'io dieci, eh. Dieci! Ma se a scuolo presi tre. Dieci! I boys cosa dicono? Dieci! Dieci gay. Che ci dici? Il tuo voto qual è? Beh, senza ombra di dubbio. Cento. Perché dico io? Perché tu non... Però, aspetta. Io adesso so che c'è una surprise. Surprise? Big surprise d'Aleona di Lernia. Eh sì, perché io so che tu adesso ci canterai una canzone. No, no. Che vuoi dedicare? Che vuoi dedicare a chi? Dillo tu. A tutti i ragazzi belli, fini, affascinanti. Quindi anche ai nostri boys. Ai gay come noi, come noi, che siamo gay. E un regalo, un omaggio a noi, perché anche loro, che se non faranno i gay, faranno la fame. Allora, loro, noi vogliamo questi ragazzi come attivi e passivi. Siccome voi sarete attivi e passivi, guadagnerete un sacco di soldi. La canzone, la canzone si intitola, tu sei gay. Ecco. Leone, è tutto tuo al palco. Fermiamoci un po' perché c'ho la sauna nelle gambe. Se si crede. Grazie veramente, Leone. A Mediaset volevi lavorare, anzi no, 10, 11, tutti li volevano. Adesso tu vedi? Non ti devi vergognare, non devi aver paura. Viva la tua vita. Quanta fatica. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Da mezz'ora ti stai truccando, cento pose ti stai provando. In palestra vai tutto l'anno e vuoi essere al centro dell'attenzione. Tu sei proprio carino, sai. Non sospettio, tu passa e spassa, il passaporto sempre pronto ce l'hai. Dici sempre, in America voglio andare. Tu sei simpatico, sai. Tu sei gay, sei fotogenico, sai. Tu sei gay, la fantasia tu ce l'hai. Tu sei gay, e quando balli tu mi fai volar via. Vorresti andare alla Rai, tu sei gay, non aver paura vedrai. Tu ci andrai, i capelli lunghi ce l'hai. E sei gay, riempio la vita di Joyce, è proprio bello. Vieni qua. Dove vai gioia di mamma, cosa fai bello di papà? In discoteca, la star tu sarai. Lascia il raste, lo veci e stanno provando. Tu sei simpatico, sai. Tu sei gay, sei fotogenico, sai. Tu sei gay, la fantasia tu ce l'hai. Tu sei gay, e quando balli tu mi fai volar via. Vorresti andare alla Rai, tu sei gay, non aver paura vedrai. Tu ci andrai, i capelli lunghi ce l'hai. E sei gay, riempio la vita di Joyce, è proprio bello. Tu sei simpatico, sai. Tu sei gay, sei fotogenico, sai. Tu sei gay, la fantasia tu ce l'hai. Tu sei gay, e quando balli tu mi fai volar via. La 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 la, tu sei gay. La 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 la, tu sei gay. La 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 la, tu sei gay. Mi piaci tanto lo sai per quel che sei. Vorresti andare alla Rai, tu sei gay, non aver paura vedrai. Tu ci andrai, i capelli lunghi ce l'hai. E sei gay, riempio la vita di Joyce, è proprio bello. Tu sei simpatico, sai. Tu sei gay, sei fotogenico, sai. Tu sei gay, la fantasia tu ce l'hai. Tu sei gay, e quando balli tu mi fai volar via. No, aspetta e spera, ma non arriva mai. Ma quando? Qui bisogna darsi da fare. Lavorare. 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 Lavorare.